Ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosi e iscrivervi da questa parte, in questa zona, attivate la campanella. Piccolo test di apertura. Allora, 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 vediamo un po'. Silvano, storico team manager del Milan. Scrivetemi il cognome. E poi Italo, mancato poco tempo fa, storico collaboratore soprattutto di Capello. Vediamo. E poi, e poi, e poi, e poi, Steinar, giocatore meteore del Milan, cognome. Vediamo chi azzecca. Se andate al Milan, se per voi il Milan è una cosa importante, iscrivetevi da questa parte e attivate la campanella. È importante attivare la campanella, ovviamente è tutto gratuito. Di nuovo un buon pomeriggio, una buona serata. Andiamo subito con una serie di notizie. Innanzitutto, potrebbe esserci uno spiraglio per quanto riguarda Turam, uno spiraglio in più. Perché sapete che ce la stiamo giocando un po' con il PSG. Però, ecco, risulta che il PSG in questo momento stia guardando anche Harry Kane. Con il Real Madrid che si era mosso in anticipo. Florentino Perez non è convinto di investire così tanto su un giocatore che comunque ha 30 anni. Attenzione perché ci pensa il PSG attratto anche da Colomuani, che però ha una valutazione molto alta. Quindi, il Milan non è la prima scelta di Turam, che preferirebbe il PSG. Ma Turam non è la prima scelta del PSG che preferirebbe, appunto, Harry Kane piuttosto che Colomuani. C'è anche Oshiman che costa però una valanga di soldi. Quindi questo potrebbe favorire un approdo di Turam in rosso-nero. Su Turam c'è anche Lipsia, che prima si era mosso insistentemente in maniera convinta su OpenDA, che è la seconda scelta del Milan. Insomma, è un effetto, è un puzzle incredibile. Vedremo poi come verrà completato e chi andrà dove e chi soprattutto arriverà al Milan, che è la cosa che a noi interessa di più. Vi segnalo che c'è fermento in diversi reparti. Milan deve cedere ai giocatori, questo lo sappiamo. Bisogna cedere e vendere, cedere e vendere. Qualcuno è già andato via per dei fini contratto, per dei fini prestiti, qualcuno deve arrivare. Vi segnalo, e ve lo dico un po' a sorpresa, che, questa è la seconda parte del video, c'è un po' di fermento per quanto riguarda la difesa. Sinceramente, guardando un po' alla nostra rosa, io dietro mi sento ben coperto. Come porta, come difesa anche, diciamo che se mai andrei a prendersi un terzino sinistro, diverso rispetto a Balloturè, perché in quel ruolo possiamo migliorare, o eventualmente un terzino che possa fare sia fascia destra che sinistra. Anche perché a destra c'è Calabria, poi si può farlo Calulu, Florenzi comunque quest'anno è sempre stato fermo, l'anno prossimo che sarà l'ultimo anno di contratto avrà anche un anno in più. Per questo non andrei a lavorare chissà quanto sui centrali, ma il Milan risulta sta seguendo anche dei difensori centrali. Ne avevamo parlato, ricorderete, anche qualche ora prima della rivoluzione. Si era parlato, soprattutto in Germania, di un interesse del Bayern Monaco per Calulu, poi siamo rimasti a quella voce, non ci sono stati fatti successivi. Però ecco, il Milan si sta muovendo anche su alcuni difensori centrali. L'ultimo nome, che trova conferme, scritto questa mattina anche oggi dalla Gazzetta dello Sport, se ne parlava già ieri sera, è quello di Nianzu. Tanguy Nianzu, che è un 21enne, li ha fatti un paio di settimane fa, il 7 giugno, 21 anni, francese, nato a Parigi, 1,91, difensore centrale che gioca nel Siviglia, con cui ha incontrato in scadenza nel 2027. Vi dico proprio perché questa cosa mi risulta comunque un po' strana. Lui, quest'anno ha fatto anche 4 partite di Europa League, 5 di Coppa del Re, 2 di Champions League con un gol. Ha fatto in totale 3 gol in questa stagione. Lo scorso anno al Bayern Monaco aveva fatto 17 partite, un gol e un assist in Bundesliga, 4 in Champions. L'anno prima 6, prima era considerato un talento emergente del Paris Saint-Germain, con cui ha in prima squadra 13 partite, 3 gol e un assist. Col Bayern Monaco 28 partite, un gol e un assist, con il Siviglia 30 partite e 3 gol. Ha fatto Ligue 1, Liga e Bundesliga. Giocatore che non ha ancora presenze però nel nazionale maggiore francese, è fermo a Under 20 e Under 21. Ha fatto il centrale, ha giocato sia a sinistra che a destra. Volevo però recuperare insieme delle caratteristiche in più. Il Milan che ha seguito e sta seguendo anche altri difensori centrali, il che, ragionando insieme a Voce Alta, lascia intendere che partirà almeno un centrale. Perché a livello numerico e qualitativo oggi si è coperto. Ecco, vi descrivo ancora meglio Nianzu, poi vediamo a chi può partire. È un piede destro, numero di maglia 14, mappa di calore quest'anno sul centro-destra, lo vedete. Difensore centrale che, vi leggo anche qualche numero, lo leggo anche per me ovviamente, ha fatto il gol di testa quest'anno. 88% passaggi riusciti, poi 0,8 intercetti e partita, 1,1 takel, poi ancora dribbling 83%, duelli vinte 70%, di cui 68% a terra, 74% aerei. Diciamo che sarebbe un ciao in più. Ciao che, tra l'altro, ragazzi, ve lo devo dire, ha fatto un esordio con la nazionale maggiore tedesca, d'applausi, ha fatto i complimenti Rudiger, pure il CT tedesco, contro la Polonia ha fatto 96%, passaggi riusciti. 89 tocchi, 5 recuperi, 60% di 1 contro 1 vinti, 100% di duelli aerei vinti, un intercetto, un rinvio, 0 dribbling subiti. Davvero straordinario. Ecco, per caratteristiche sembra un po' più vicino a Ciao e Kier rispetto a Kalulu e Tomori. La valutazione non è elevata perché lui comunque negli anni non ha confermato le belle speranze che c'erano su di lui, quindi si può acquisire per 7-8 milioni di euro. Il giocatore che è Moncada conosce benissimo nei tempi parigini, però se arriva deve andare via qualcun altro. Ora, o tu fai partire Gabbia, dal quale puoi incassare 3-4 milioni di euro, aggiungere qualcosa e ti porti a casa Nianzou su quale il Milan c'è, oppure lo prendi perché fai partire uno dei tuoi big, dove per big intendo Ciao, Kalulu, Tomori e Kier. Siccome Pioli ha più potere e verrà ascoltato e si farà sentire, non credo proprio che l'eventuale sacrificio possa essere Ciao, anche perché è appena arrivato e sta facendo molto bene. Escludo anche Tomori, perché comunque gioca sempre, è il titolare di Pioli. Diciamo che se arriva un difensore perché o parte Gabbia, però per la questione di vista è importante, oppure parte uno tra Kier e Kalulu. Entrambi, diciamo così, nella seconda parte di stagione hanno avuto problemi con Pioli. Diciamo problemi tecnici più Kalulu, che ha visto il campo un po' poco, alla fine i titolari erano Tomori e Ciao. Oppure Kier, che all'ultimo anno di contratto vorrebbe giocare di più, aveva avuto quella dichiarazione un po' infelice dal ritiro con la sua Danimarca, dicendo non sono mai stato così bene, non capisco perché non gioco. Poi Pioli aveva detto entra nel derby di ritorno di Champions, lui ci ha messo tanto a cambiarsi e ha fatto entrare Kalulu. Diciamo che qualcosina con Pioli è successo e si vocifera che il rapporto non sia così idilliaco. È chiaro che però devi trovare un club che va a prendere un giocatore che ha un ingaggio non elevato, ma neanche bassissimo, e che è alla fine carriera. Per questo ricordo che prima della rivoluzione si parlava in chiave mercato in Germania di Kalulu. Kalulu scoperta di Moncada, 480.000 euro, io sinceramente lo confermerei, io la difesa non la toccherei, magari inserirei una pedina, magari al posto di gabbia. Se però devi fare player trading, purtroppo Kalulu sarebbe perfetto per le intenzioni di player trading, perché pagato di fatto 0, 480.000 euro, lo rivendi, dopo che è stato protagonista al Milan, ti fai una plusvalenza molto importante. Ora, credo che la valutazione di Kalulu oggi debba essere almeno di 25 milioni di euro. Tu faresti 25 milioni di plusvalenza, 7-8 li paghi per un difensore che potrebbe essere Nianzu che non è l'unico nome, e gli altri 20 li hai da spendere altrove. Dovremmo purtroppo abituarci anche a questo tipo di operazioni. Spero che però i miei preferiti possano rimanere, e Kalulu è anche tra questi. Sinceramente lo confermerei ancora. Nel gioco delle coppie ha più senso per caratteristiche di Nianzu se vai a cedere Kir. Se riesci, oppure, gabbia, se incassi qualcosina, lui vorrebbe andare a giocare, e aggiungi nel reparto Nianzu. Che è un'occasione di rilancio, è chiaro che ci devi credere. Giocatore che, ripeto, conosce molto bene Monkada, e che fiuta un'altra operazione alla Chao, cioè lo paghi poco e poi rende tanto. Proseguiamo in questo videomercato. Entriamo in una terza parte di video, dopo la notizia di spiragli su Turam. La notizia, appunto, di movimento un po' in difesa, dove potrebbe esserci un sacrificio. Mi auguro non Kalulu. A male in cuore direi Kir. A male in cuore perché sapete quanto mi piace al Principe Azzurro. Preferirei Gabbia. Però devi sostituirlo nelle liste con qualcuno. Magari promuovendo qualcuno nel settore giovanile, perché no? Terza parte del video, in cui andiamo invece a parlare di un altro aspetto. Perché il Milan, nei contatti con il Lecce, con il discorso Colombo, prima di valorizzazione di 500.000 euro al Lecce, con il discorso legato a Nasti, l'ultimo anno a Cosenza, primavera Milan, che il Lecce vorrebbe, si è parlato anche di Juhlman. Ieri vi dicevo, l'altro ieri, spero tanto che si possa parlare di Juhlman, però non è una notizia, è una speranza. Oggi invece è una notizia. Si è parlato di Juhlman, giocatore davvero interessante, pallino di mister Carlo Pogliani, 23 anni, mappa di calore tutto campo, guardatelo qui, così diamo anche qualche riferimento in più. Giocatore che è appena 23 anni, capitano del Lecce, danese, scadenza 2024, quindi si può portare via prezzi abbordabili. 1,85, centrocampista che ha fatto 4 assist, che si fa vedere prevalentemente nell'interdizione. Giocatore che ha 11 presenze nell'Under 21 danese, e che quest'anno ha fatto 35 presenze in Serie A, ripeto, con 4 assist. La prima valutazione del Lecce è di 20 milioni di euro, cifra alta, cifra alta destinata a scendere. Lui ha mercato in Muldesliga, attenzione, però potrebbe essere uno dei due centrocampisti in arrivo. Milan deve prenderne due a centrocampo. Per quanto mi riguarda Juhlman, sarebbe un'operazione brillantissima, perché è un giocatore forte, un recuperapallone incredibile, che si potrebbe piazzare lì, come vertice basso se si gioca a 3 o anche nei due. Il Milan deve abbassare le pertese economiche del Lecce, facendo leva su buoni rapporti, sulla scadenza, sperando che qualche club di Bundesliga non arrivi con offerte superiori. Pare in questo momento non avere mercato in Premier League è una cosa buona per noi. Ci sono stati i primi approcci con il Lecce e, insomma, si può ragionare magari anche su delle contropartite. Penso ad Adli, che però ha mercato in Francia al momento. Penso a Nasti, magari perché no anche a titolo definitivo. Gabbia per il discorso che facevamo prima, per abbassare un po' la parte cash, che comunque, non lo dico da milanista, per un giocatore in scadenza tra un anno di quel tipo, forte ma che deve ancora dimostrare, secondo me la valutazione non può essere superiore ai 14-15 milioni di euro. Ma Juhlman piace tantissimo, per me è davvero forte, può diventare fortissimo. Nome che mi fece Carlo Pogliani in tempi non sospetti. Ditemi che cosa ne pensate di tutto, di questa situazione. Turam, Juhlman e poi difesa. Sacrifichereste Calulu per un buon bottino di 25 milioni di euro? Io preferirei di no. Io preferirei sinceramente di no. Però qualcosa in difesa accadrà. Commentate qui sotto numerosi, iscrivetevi da questa parte. Chi non si iscrive Tifa Inter, chi non si iscrive ha tifato Materazzi, ha tifato Nicola Berti, Lautaro Martinez di Marco. Mi raccomando, avanti milanisti. Iscrivetevi, mi rimando al video precedente, in cui vi parlo anche di altro a proposito di mercato. Un abbraccio.